Musica Con Patrizia Barbini, presidente del Paglio di San Nicola di Sirolo, una delle più belle cittadine della provincia di Ancona per la sua posizione vicino al Conero, ma per la sua spiaggia meravigliosa, per le due sorelle insomma chi ne ha più ne metta, ma il Paglio è un'altra cosa, vero Patrizia? Sì, è una sesta edizione speciale quest'anno e siamo riusciti a coronare la coppetta come la contrada vincente un'edizione che è andata benissimo soprattutto per le condizioni meteo e per la partecipazione del pubblico Ecco, che edizione era quella di quest'anno? Sesta edizione, siamo cresciuti, stiamo crescendo a piccoli passi, ci siamo fondati nel 2013 come associazione di volontari e il Paglio riesce ad aggregare soprattutto tanti cittadini sirolesi che hanno intenzione di far vivere il paese tutto l'anno non soltanto nel periodo estivo perché già parla da sé la perla dell'Adriatico Quante persone sono state coinvolte più o meno di tutte le contrade? Allora, lavoro proprio tecnico una trentina barra 40 persone e per la sfilata più di 150 soggetti Comunque, chiudiamo questa edizione con gioia! Tantissima gioia, augurando a tutti i partecipanti una prossima edizione molto più ricca e soprattutto cercando di avere più volontari possibili Voi risponderete, giuriamo Durante voi corridori emissi delle contratti